Sì, certo amici, è chiaro che in questo momento c'è una grossa crisi nel mondo dell'editoria libraria tradizionale e da allora ecco che bustano alla porta quelli che sino a cinque minuti prima dicevano no, già mai, l'editoria elettronica a questo punto cominciano a guardare ma si potrebbe fare, si potrebbe fare questo, si potrebbe fare quell'altro e cercano di intervistarmi. Ormai io mi sono lasciato molto intervistare negli anni scorsi dai colleghi e gli ho raccontato di tutto e di più. A questo punto cari amici se volete che vi racconti delle cose io sono qui, assumetemi come consulente e vi assicuro che vi farò fare un bell'ingresso nel mondo dell'editoria digitale proprio dalla porta maestra insegnandovi anche tutta una serie di segretuzzi che sono maturati nel corso di oltre 17 anni di editoria elettronica. Grazie Grazie